L'agnello mistico di Jan van Eyck è forse una delle opere più sorprendenti della storia dell'arte. Siamo nella pittura fiamminga rinascimentale, siamo nel 1432. È un politico composto da 24 pannelli di legno di quercia dipinti fronte e retro. E quando lo si chiude ha un significato e quando lo si apre ha un altro significato. Pensate che è aperto, è 3,75 metri di altezza per 5,20 metri di larghezza. È davvero sorprendente, io lo vidi un anno fa a Gand, alla chiesa di San Bavone, e mai sono stato così vicino a quella sindrome che toglie il fiato. Mai con la Cappella Sistina, né con la Cappella degli Scrovegni, Amor Sacro, Amor Profano di Tiziano, no. Mai sono rimasto colpito di fronte a un'opera d'arte, come di fronte a questa. È impossibile raccontarvela tutta, perché sono 24 pannelli, dove c'è tutto. C'è Dio, c'è la Vergine, c'è Giovanni Battista, ci sono Adamo ed Eva. Guardate solo Adamo ed Eva. Un Adamo umano, troppo umano, per parafrasare qualcosa di importante. Si tiene una mano davanti al petto, una si copre il sesso, e con il piede sta uscendo, come se uscisse dall'uscio di casa. Guardate Eva, ha una lieve gravidanza, perché è la madre di tutti. Ma anche lei è totalmente donna, si vedono i peli del pub, quasi, perché la foglia di fico non le copre completamente, e ha in mano il frutto del peccato. Basterebbe questo per rendere un'opera straordinaria, oppure l'Annunciazione. Guardate l'Annunciazione, quanto bella. Dipinta probabilmente dal fratello Hubert, perché c'è un'iscrizione nella cornice interna che dice che quest'opera è stata iniziata da Hubert van Eyck, il primo fra tutti nell'arte, e completata dal fratello Jan van Eyck, il secondo nell'arte. In realtà di Hubert non si sa nulla, non c'è nessun'altra opera. Potrebbe anche essere stata un'invenzione di Jan. Detto questo, analizziamo solo il pannello centrale, quello che dà il titolo a quest'opera. Guardate, l'agnello mistico. Che cosa vediamo? Dove siamo innanzitutto? Siamo nel paradiso terrestre, e lo si vede perché la vegetazione, i fiori, sono in esplosione completa. Guardate che pare ci siano più di 350 tipi di vegetazione diversa. Che van Eyck ne abbia dipinti 350 tipi. Ogni fiorellino è a sé. La pittura fiambinga è la pittura maestra nel dettaglio. Si dice quel detto, ha più dettagli di un quadro fiammingo. In alto cosa c'è? C'è la colomba dello Spirito Santo. Si vedono già i raggi dello Spirito Santo che arrivano sull'umanità, che è nel paradiso terrestre. Questo fiorire di vegetazione intorno, e questi campanili sullo sfondo, qualcuno ha riconosciuto anche il campanile della città di Utrecht, però è difficile dirlo. Detto questo, veniamo al protagonista, guardatelo. È contornato dagli apostoli, in basso destra, dai padri fondatori della Chiesa, da persone comuni. Sono tutti in adorazione dell'agnello mistico. C'è anche Virgilio, pensate, vestito di bianco con l'alloro tra questi. Intorno a questo altare ci sono degli angeli, e gli angeli hanno i segni della passione di Cristo. C'è il crocefisso, c'è la lancia con la quale Longino ha inferto il colpo nel costato a Gesù, c'è la corona di spine, ci sono tanti simboli della passione, ma su questo altare chi c'è? È lui, è l'agnello mistico. È l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo, ed è sgozzato, guardate, perché sta uscendo sangue dal suo petto, ma è vivo. Sgozzato, ma vivo, eternamente vivo. E questo sangue che arriva in questo calice darà vita al santo Graal, poco più sotto la fontana della vita, la fontana con l'acqua santa. Tutto è simbolico, tutto è allegorico, tutto è talmente dettagliato da farci sembrare quasi lì. Siamo anche noi dentro il paradiso terrestre. Però dovete sapere una cosa, che questo è veramente sorprendente. Venne il restauro nella seconda parte del 2019, è completata quest'anno. E nel restauro, nella pulitura del musetto dell'agnello mistico, è uscito qualcosa di sorprendente. Sono state tolte le sovrascritture post-rinascimentali, e questo era il volto dell'agnello che ho visto io, che già aveva un senso mistico, diceva che quell'agnello era molto di più di un agnello. Ma guardate cos'è uscito dalla pulitura. È uscito il vero volto, ora sì che posso dire volto, dipinto su questo agnello da Jan van Eyck. Guardate, vedete? Impressionante il volto di un uomo. Gli occhi non sono più laterali, ma sono frontali. Il sorriso è il sorriso di un uomo. Guardate in questo confronto all'americana, prima e dopo il restauro. Io ho visto solo quello di sinistra. Quello di destra dovrò tornare per vederlo. Guardate quanto è impressionante, quanto ha azzardato Jan van Eyck nel dipingere tutto questo. E perché l'hanno cambiato? Perché nei secoli l'hanno cambiato? Probabilmente questo volto di agnello era troppo duro, era troppo difficile da guardare negli occhi, perché lì si guardava il volto di Dio. E allora la gente non ci riusciva. Allora sarà intervenuto un pittore che ha mitigato questa irriverenza, questa forza pittorica di Jan van Eyck e gli ha ridato una fattezza più animalesca. Ma ora è tornato. È tornato l'intento di Jan, è tornato il volto dell'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Guardate, quando sono andato lo scorso anno, sono andato con due amici di infanzia, intanto abbiamo fatto una gita, dovevo andare a ritirare una scultura che mi ero giudicato a un'asta, siamo andati dentro la chiesa di San Bavone. Loro non si occupano di arte. E quindi non ho spiegato niente a loro, non ho spiegato le cose che sto dicendo a voi. Io ho semplicemente detto una cosa. Immaginatevi il 1432 nei Paesi Bassi. La vita era fatta di luce, lavorare, mangiare, buio, dormire, fine. Non c'era niente, non c'erano neanche libri. Però la gente sentiva parlare di questo agnello mistico, di questa raffigurazione di Dio che era dentro la chiesa di San Bavone. E allora cosa facevano? Magari me li immaginavo che si organizzavano in gruppi di tre, quattro, cinque persone e si prendevano e partivano per Gantt per andare a vedere questa cosa. Magari impiegavano due, tre settimane a cavallo attraversando le ardenne, la pioggia, la diaccio. E poi pensate allo stupore quando entravano in questa chiesa e vedevano la rappresentazione di Dio. Ecco, i miei due amici ho detto vi racconterò tutto dopo. Voi entrate e cercate di conservare un briciolo dello stupore di quella persona che nel 1432 varcava la porta di questa chiesa e si trovava di fronte all'agnello di Dio. meraviglioso.